ciao spaccato tutto bello a tutti da me il gabbon 15 secondi allora questo non è troppi fogli qua sopra non ritrovo più ecco siamo tornati con questo nuovo video perché ragazzi l'effetto cristiano ronaldo sta facendo il suo effetto e scusate il gioco di parole in tanti dicevano appena arrivato ronaldo alla juventus ma ne gioverà solo la juventus ma perché dite che anche le altre squadre di serie a devono giovare di questo arrivo ragazzi esordio di cristiano ronaldo al 20 godi contro il chievo verona che cosa è successo prezzi dei biglietti ne esce fuori che in media sono aumentati del 50% in tutti i settori dello stadio in media quindi magari 30% o più da una parte 40 da un'altra 50 da un'altra ancora ecco quando parlavamo di effetto cristiano ronaldo e di questo che vi stavo dicendo poc'anzi se parlava proprio in termini economici ovviamente chi vuole andarsi a vedere la partita i prezzi sono questi non è che vai da armarocchino sotto casa e dici quanto costa quel bracciale in euro te do 58 centesimi no se vuoi fa così se vuoi andare allo stadio quello devi pagare quindi che cosa succede ve pare a voi che i tifosi del chievo verona ma anche i tifosi della juventus dicono no io non ce vado perché costate più se fa uno sforzo economico e ti vai a vedere l'esordio di cristiano ronaldo in serie a ecco perché quello che sta succedendo al chievo verona succederà a mano a mano in trasferta ogni volta che la juventus andrà da qualsiasi altra parte e aumenteranno i costi dei biglietti in effetto ragazzi è una catena che non si chiuderà mai questa sarà così per tutte io non credo che si andrà al ribasso si andrà solo che al rialzo del prezzo dei biglietti quindi chi ne giova le squadre di serie a chi meno cioè chi se potrebbe incavolare noi tifosi che andiamo a vedere le partite che penda ce la vede voi direte ma in quanti saranno disposti a spendere di più ragazzi quando si parla di calcio una partita a settimana anzi è bata a spese uno che ama la propria squadra del cuore è uno sforzo che è disposto a fare poi succederà appena perché ci sta sempre nel mezzo la juventus non è che tutte le squadre giocano sempre contro la juventus però intanto quella partita l'anzeppata ce la danno io so curioso di vedere quello che succederà a Roma juventus perché sicuramente i prezzi saliranno anche in quel caso alle stelle ma andiamo a vedere l'aumento dei prezzi nel dettaglio perché la curva passa da 50 euro anziché 30 quindi che cosa succede prima costava 30 fino alla scorsa stagione costava 30 euro adesso se ce vuoi andare vedete l'esordio di Ronaldo al 20 godi devi cacciare 50 zeppe chiedo scusa se l'ho lasciata la finestra aperta e il ventilatore è acceso ma fa troppo caso non ce la faccio quindi se sentite il casino sotto i ragazzini che bestemmiano o l'aria che fa vi 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 sapete per quale motivo poi necessità occulta a negozi dei divani o quant'altro le poltronissime del 20 godi passeranno da 100 a 150 euro proprio in occasione della partita con la juventus una botta tra cape e collo e va bene così da 50 a 70 euro invece passeranno le poltrone classiche sempre del 20 godi quindi insomma un aumento di prezzo abbastanza sproporzionato ma io vorrei sapere da voi nei commenti che cosa ne pensate siete disposti ad andare se vi trovate da quelle parti se ti fate Chievo o quello che volete siete disposti a spendere così tanto in più rispetto a quanto si pagava pur di andare a vedere l'esordio di Cristiano Ronaldo con la juventus io credo io fossi in voi se mi trovavo da quelle parti e non c'avevo niente da fare probabilmente se amavo il calcio ovviamente cioè amo il calcio però mi sto mettendo i panni di uno che magari ce sarei andato a vederlo nonostante nonostante la spesa ce sarà chi sarà d'accordo chi meno ma è ovvio che questo effetto Ronaldo si sta ripercuotendo un po' in generale in tutta la serie A e ripeto lo vedremo in tutte le partite che la juventus giocherà in trasferta ne sono sicuro sicuro al 3000% detto questo voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti è ovvio che come sta mi ricordo se l'ho detto prima ma lo ripeto forse a livello tecnico l'unica che giova dell'arrivo di Ronaldo alla juventus è solo è la juventus però ragazzi le squadre iniziano a guadagnare di più perché l'effetto Ronaldo è uno dei giocatori più forti del mondo che arriva in serie A ovviamente si fa sentire sa far sentire la sua presenza a livelli esagerare è uno no credo che sia quello più seguito sui social lo sportivo più seguito sui social nel mondo o il calciatore l'ho letto ma già mi sono scordato lasciate un bel viaggio su questo video arriveranno tanti nuovi contenuti sul mondo del calcio commentate col vostro parere fatemi sapere se giustificate questo aumento di prezzo o meno condividete il video le vostre mamme le vostre nonne le vostre zie le vostre cugine le vostre nipoti le vostre suocere le vostre cognate iscrivetevi al mio canale qualora non lo aveste ancora fatto e niente vi lascio con questo dilemma forse probabilmente più tardi uscirà un nuovo video perché mi avete chiesto un contenuto un po' particolare di cui parlare l'ho già registrato e probabilmente ve lo schiaffo profilo instagram canale telegram seguitemi anche lì così vi invio le feed che youtube ultimamente non sta mandando rimarrete sempre aggiornati sui miei nuovi video un'altra cosa che è campanella a fianco al tasto iscriviti con quella in teoria dovrebbero allivare le feed però non dovessero arrivarvi ci avete comunque la possibilità di tramite instagram o telegram di scoprire sempre i miei nuovi contenuti detto questo a voi la parola fatemi sapere che cosa ne pensate e soprattutto se secondo voi Ronaldo sta giovando alla serie A in termini economici o se potrebbe avere effetto opposto che a gente dice no non ci vado più a un stadio perché costa troppo però io sinceramente non credo perché stiamo sempre a parlare di un certo Cristiano Ronaldo buon pomeriggio bello a tutti